... del Trieste Festival, l'ultimo giga, un personaggio molto noto a Trieste non solo, è uno scrittore, un giornalista, un motore di teatro e anche di cinque. Qui torna con una commedia, è un film di produzione slovena, interamente girato quasi interamente a Trieste. Qui con noi abbiamo i due personaggi protagonisti del film e l'introduzione sarà breve perché vogliamo partire puntuali, proprio per dare più tempo magari per una piccola discussione con il regista presente e gli autori alla fine della proiezione. Marco, allora, sei contento? Questo film si tratta anche di temi molto seri, ci riguardano da vicino, dopo le guerre balcaniche e non solo, racconti una storia molto piccola ma anche molto grande, attraverso questi due grandi protagonisti. Che fortuna è arrivato il microfono. Sono contento che siete arrivati così numerosi. Io non parlerò del film, il film lo vedrete, speriamo che lo guardiate con piacere. Io vi presento soltanto i miei grandi protagonisti, che sono Mariuta Slamic, della Dice Municipale, di direttore della fotografia, Rado Mancioc, vostro nombrato, Dupo Nulave, il musicista Stefano Piagli, e il produttore Bostian di Colis ecco ci vediamo dopo il film sono molto contento di essere a questo festival anche noi tra l'altro ci sono anche tanti lieti ritorni Ivo è stato protagonista di un cortometraggio di Ian Zivkovic l'anno scorso che ha vinto tra l'altro con Bostian c'è un rapporto professionale già da tanti anni, sono tanti i film che produce e che il festival mostra quindi il festival è proprio sempre un incontro è un ritrovarsi anno dopo anno con bei film quindi a questo punto buona visione ci rivediamo al termine della proiezione con il cast tecnico e artistico di Comedy of Tears grazie, grazie Marco